Per noi è molto importante questa iniziativa perché serve più che, secondo me, a tutti gli adulti più frequenti, anni giovani per ricordare a tutti l'importanza della memoria, che non deve essere solamente una giornata di oggi, ma ogni volta che passiamo sotto questi archi pensare alla sofferenza di tanta gente. E noi fortunatamente a scuola, con la materia dell'educazione civica, stiamo affrontando temi come questi molto importanti, soprattutto recentemente con la nostra professoressa di italiano abbiamo affrontato il tema, diciamo, riguardante la letteratura, su Alta Merini, che, come saprete tutti, è stata internata anche lei in manicomio. Quindi penso che la parola chiave sia il ricordo e soprattutto per coloro che non sanno, prima di ricordare bisogna conoscere. Buongiorno a tutti e proprio come ha detto anche la mia compagna, quello che è importante è ricordare, per non commettere gli stessi errori, noi frequentiamo appunto il liceo classico, quindi mi viene da dire storia magistra vite, cioè la storia è maestra, la storia ci insegna che quello che è stato non deve accadere più. Noi stiamo lavorando tanto riguardo alla sanità mentale, abbiamo fatto appunto un lavoro in cui abbiamo confrontato, anche ci siamo confrontati con degli autori come Alta Merini che hanno avuto problemi di sanità mentale e stiamo lavorando tanto su quanto tremendo fosse quello che queste persone avevano dentro questi manicomi. Per questo motivo è importante soprattutto che noi giovani per il futuro riusciamo a imparare dagli errori commessi.